Ciao ragazzi, un saluto da Zebra Bianconera Allora, in questo video vi voglio parlare di tutte le operazioni che sono state fatte dalla nostra Juventus in questa sessione di calciomercato Ma prima di parlarvi del video del calciomercato della nostra Juventus, vi voglio dire una cosa ragazzi Federico Chiesa è un nuovo giocatore della nostra Juventus, da oggi E' arrivato oggi dalla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto Forza Federico, dimostra di essere veramente un grande giocatore con la casacca bianconera, con la nostra maglia bianconera Forza Fede, fai veramente una grande stagione E adesso parliamo delle operazioni fatte dalla nostra Juventus in questo calciomercato Partiamo prima di tutto dagli acquisti Gli acquisti sono stati Arthur da Baccellona Krusevski da Parma Romero, che abbiamo preso da Genova e mi ha dato in prestito all'Atalanta Peregrini, che abbiamo preso da Cagliari e mi ha dato in prestito a Genova Correa, preso da Manchester City, un attaccante giovane Mecchini, preso dallo Schiacke 04 Morata, preso dalla Tredigo Madrid E' dai, preso dalla Basilea e mandato ancora in prestito a Basilea E' chiesa, preso dalla Fiorentina E adesso parliamo delle cessioni Pjanic, che è stato venduto a Baccellona Matuidi, è stato venduto a Rint e Miami Muratore, che è stato venduto alla Regina Moreno, attaccante giovane, è stato venduto a Manchester City Iguarin, è stato venduto anche lui a Rint e Miami insieme a Matuidi Piazza, che è stato ceduto a Genova Rugani, che è stato ceduto a Rennes In prestito Dara Scossa, che è stato ceduto in prestito anche lui Ieri sera a Baia e Monaco Ed Escilio, che è stato ceduto in prestito oggi a Rione Bene ragazzi, con questo è tutto Vi auguro una buona serata Iscrivetevi al canale YouTube E seguitemi anche su Instagram Su Zebra, da tiro a basso, bianco nera Fino alla fine, forza Juventus Buona serata a tutti ragazzi, ciao